buongiorno buongiorno oggi ci vuole la formula destro sinistro antipasto misto e via forza forza prima del soli vabbè sta pieno sta pieno di figa anche la mattina appena alzate incredibile si torna a mangiare pulito ma soprattutto 19 30 chi si allena con me un bello spurgatorio insieme agli amici di pt suite voi vede belli carichi stasera raga un allenamento tosto eh mi prepara il pranzo una persona con la cartigianica in testa eccola ma come hai messo la cartigianica in testa fammi capire comunque possiamo dire al tuo amico mauro che gli stai rubato il lavoro che sei il meccanico tu ormai eh mi ha chiamato perché c'era un problema lei oh raga ho un problema con la macchina non mi si chiedeva la portiera sono arrivato io un secondo no ma fa sto pranzo la cartigianica in testa non ci capisco niente ma la cartigianica sulla testa perché eh non capisci niente di moda sì questa è la moda nuova così se l'anno al bagno sdratoli i capelli e via preoccupato perché sta cucina lei c'è quanti vorrebbero non mangiare sta roba e poi c'è un altro appunto se c'è il collo alto perché la pancia scoperta è in un simoro ecco guardate che grande cucina vai pasta in bianco e pedalare via al pesto al pesto al pesto guardate guarda che lavoro ma manco da ma guarda che lavoro una donna da sposare eccola qua guardate che spettacolo sarà buonissima vai più che buona sicuro l'assaggio buoni sono un po al dente non ho riconosciuto la forchetta da la pasta va bene la pasta al dente si si è buonissimo ho tutti i denti trasforma in un razzo missile ecco il circuito di mille levasse già chiesto da da ufo robò ufo robò ufo robò fa il passo da ufo robò passo da ufo robò la favola tu tu veramente non è vero puoi fare solo le schiacciate guarda guarda apri apri vai cazzo guardi ma vuoi che affanculo tu e la tavoletta ma perché cammina lenti mi stia a guardare voi guarda guardate se guarda come ma che vuole com'è com'è se guarda un palazzo non si può guarda un testo di cazzo ma e questa guarda dove viene eh 21 bocconotti hai mangiato? 21 era sta dieta o no? e beh ma 21 bocconotti fanno guarda quant'anno guarda quanto sono sarà mezzo chilo? si sono un chilo tu hai dappi a 21 bocconotti e vanno a pesare vabbè o no ma te sarò un 20 grammi si e no eh ma va bene eh certo che va bene se il turco ci fa il verso del somaro che fa il somaro e quando aveva smesso di mangiare è morto si noi ti vogliamo fare diventare un modello no questo cazzo figlio ma perché non il modello ma devi dire cammina cammina lenti che io non ho devi fare un modello dopo ti fanno sfilare si eh eh col bichini pensa quanto sei bello col bichini eh eh se no col bichini bini 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 di qui dalla poccina le mettevo con le mani fermate ah allora hai capito con le mani è data fermo ma tu le toccavi le pocce? si dalle donne però io sono uomo quei tocchi come facevi? eh come facevo come un coglione le chiappavo e dopo? che facevo? e dopo? e le ciuccie muiiii eh hardly ma sera 20 grammi ma è vero e una salsiccia e allora dai il pollo nel manico tutte queste zone del tuo corpo cercate anche di sentire che effetto che sensazione fa camminare così con diverse strutture che stimolano tutto il vostro guarda guarda che stai guarda? ma tu che cazzo mese? allora la pressione si alza la pressione? ma la coglione eh come guarda eh si ma mica come si la mette io io mi ho avuto il suo corpo ma il mio marito ha detto che sono le belle donne è davvero? mica guarda le pecore quelle e che qua le guarda? tu cazzo che qua le guarda? guarda quelle le pecore no? ma le guardo eh e Luca mi ha fatto il tuo corpo ah certo guarda come guarda 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 eh questo è un po' lo deficiente ma è certo quella che fa? quello è uno che ne piace la sorca perché? e come perché? lì ha tutta la stessa così e lui sopra sta col cazzo nelle mani e c'ha la sorca dell'ingel non ho capito lei che sta a fare? la lepate di coglione che stia a fare? ma che fa toccarsi su? buona? mi piaceva tutta mezza pelata che ti piaceva? niente pelata tu? non te la sorca ero tutta pelata sì che storca è quella e tu come la vorresti? col pelo quanto lungo? più ce n'è meglio vuol vedere in film col pelo? sì adesso puoi vedere quanto? dimmi il metraggio? eh eh basta che c'è il pelo pelo? nero eh? sì sì come? nero riccio nero riccio e ci vuoi mani? per darti voce ascoltiamo per farti sentire attraverso lo sguardo libero meglio raccogliamo tutti i punti di vista per regalare vale si è spostato apposta concentrazione massima attenzione ad alti livelli sempre più concentrato ma sarei un porco eh? sarei un porco ma chi? tu io eh perché? stai proprio fisso così a guardare ma dov'è fai con il tuo io? mi sto guardando lì ma che stai guardando lì? stai guardando qui? il porchettonna metto la sotto giù lo vuoi il senzio ma lì faccio il saggio no? ma che saggio? che saggio? ah non hai capito? 20 anni se la professione di ginnastica artistica non ha mai avuto il suo allora non metto ma lì no non metto ma lì ma lì ma c'è il saggio ma c'è la mia saggio c'è il saggio un applauso a questo flauto che non molla mai questo flauto è un indistruttibile altro che acciaierie è proprio buono non lo so mamma mia fuoco vogliamo salutare Jessica fratamico che è acquistato dalla Svizzera saluta ciao Jessica ciao Jessica un abbraccio grazie mille un abbraccio coccodrilli è stata una diretta bellissima grazie mille scusate ma sono stracotto poi questo lampadario di qui davanti non ne posso più comunque ci vediamo domani un'altra giornata insieme più o meno perché anche domani lavoro quindi però il 6 sarò tutto saremo tutti per voi quindi ragazzi non vi preoccupate noi ci saremo sempre vi ricordo inoltre che potete seguire tutte tutte le nostre avventure su youtube ma che so sti ulli e ripendere a fare progressi e e santi che bello grande fratello sono a discorre quella è da Roma quella di qua con schiette come che cazzo mi prese io niente vuoi vedere ho tutto lento e lui vuoi guardare il filmino nonna marina si vuoi guardare i coglioni ma come veni a dormire con te ma come c'è rompito io vieni a dormire con te se c'è tanto sonno e beh va a dormire a pancù oh dammi un bacetto dai buonanotte ti voglio bene ricordatelo sempre che ti voglio bene e me lo ricordo di qui bravando sei bello rilassato ti fa il bel massaggino pensa se dormiamo insieme ma senti che ti ha detto trippone e budellone chi lo dico la tua moglie lì ha no perché lì ha è in grissino è in grissino si sono a discorso questi due questi se sono innamorati che fanno quando uno è innamorato ma che fanno c'è tromba ma